Ascanio, vuoi condividere la tua esperienza? La mia esperienza? E le circostanze che ti hanno condotto all'infrazione. La multa è semplice. Andiamo a suonare, sta tormento. Quando avrà del figlio di capire? Sì, aspetta e spera. Scani uno che con le donne... Mi sono andrati in casa e hanno portato via tutto. Lei è licenziato, ha capito? Sei andato a pesca? No, no, mi stai legando la casa. Comunque, al ristorante ci vado pure. Che ne so, non è più ora. La mostreria, la trattoria, la pizzeria. E la multa? Grazie. 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 Grazie.